Una soffia pronta a uccidere ancora con una carica di 15 kg di treitoli in arriva a Palermo è riservata al PM Nino Di Matteo. E così a distanza di 21 anni dagli eccidi di Capace e Via D'Amedio, Cosa Nostra sarebbe stata pronta a uccidere ancora colpendo al cuore le istituzioni e un altro magistrato titolare delle inchieste più calde di questi ultimi anni che hanno azzerato famiglie e cari mandamento mafiosi. E' una soffiata confidenziale a mettere in allarmi i vertici del tribunale di Palermo e a potenziare all'istante la scorta di Di Matteo che viaggia ora al seguito di quattro auto blindate e sei carabinieri del gruppo intervento speciale. A rivelare l'attentato a Di Matteo un mese fa sarebbe stato un uomo considerato attendibile dagli inquirenti che gravita negli ambienti dei traffici di droga contigui alla mafia e lui a riferire con dettagli circostanziati che Cosa Nostra dunque che aveva già pronto l'esplosiva un telecomando stava già pianificando le fasi operative dell'attentato. Il confidente però non avrebbe fatto il nome del pubblico ministro Nino Di Matteo ma è a lui che tutto lascerebbe pensare che con altri tre colleghi rappresenta l'accusa nel processo sulla trattativa stato mafia ed è sotto procedimento disciplinare per avere confermato in una intervista l'esistenza delle intercettazioni telefoniche tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino. Ma non sarebbe solo Di Matteo nel merino ora della criminalità organizzata due settimane fa qualcuno ha fatto irruzione nella casa in pieno centro a Palermo del PM Roberto Tartaglia anche lui nel pool della trattativa. Prima ancora una lettera anonima aveva fatto scattare l'allarme in cui si parlava della preparazione di un attentato con riferimento esplicito a Di Matteo autorizzato dal superlatitante Matteo Messina Denaro.